Salve ragazzi, benvenuti su Gimba Network, io sono Wolf e in questo video vi mostrerò Nature Escape, il mio gioco su Project Spark. Project Spark è un titolo molto particolare che ci consentirà di creare i nostri propri giochi, un editor insomma, che grazie a un sistema intuitivo e rapido permetterà a noi comuni mortali di creare videogames e con tanta dedizione e costante impegno sarà possibile plasmare veri e propri capolavori. Project Spark lascia ampio spazio alla fantasia di nuovi utenti, dandoci modo di creare un qualsiasi genere di videogioco, certo abbiamo delle limitazioni grafiche e strutturali, ma che comunque non intaccheranno la nostra creatività e le chance di creare qualcosa di realmente valido. Il gioco è sviluppato dal team Dakota ed è in fase beta su PC con Windows 8.1 e Xbox One, ma presto arriverà anche su Xbox 360. Ho avuto modo di provare questo titolo fantastico per svariate ore, cercando di creare numerose avventure e piccoli giochi e posso dirvi che sì, con questo titolo potrete effettivamente creare dei giochi, inizialmente semplici e poi via via sempre più complessi, a patto di avere la voglia di dedicare numerose ore allo sviluppo, ottenendo un prodotto dotato di cinematiche, doppiaggio, motion capture, gameplay unico e un IA di livello. Tutto questo senza saper nulla di programmazione e codici, questo perché il gioco dispone di un fantastico editor in game che ci permetterà di modificare a nostro piacimento ogni settaggio, partendo dalla creazione dell'ambiente, con luminosità e colori, fino ad arrivare alla completa gestione e interazione del mondo di gioco con il nostro personaggio. Potrete creare uno sparatutto, difficile ma possibile, oppure una maestosa avventura grafica o ancora un discreto RPG o come ho fatto io, un piccolo platform 2D. Quello che state vedendo è Nature Escape, un semplice titolo che ho creato in due tre giorni. Il giochetto in questione è molto difficile, infatti nella clip che vi sto mostrando sono presenti dei microtagli per farlo sembrare omogeneo e tutto di fila. In realtà non sono mai riusciti a completarlo nella sua interezza, ma nonostante ciò so che è perfettamente possibile. Con Project Spark potrete testare i vostri giochi, le caratteristiche e il gameplay, limare quello che non va bene e quindi migliorare continuamente la struttura del vostro gioco. Il mio consiglio è quello di scaricare Project Spark, ovviamente se possibile, e provare a sbizzarrirvi nella creazione di fantastici livelli o location. Avrete tantissimo a disposizione, con numerosi tutorial sia all'interno del gioco che sul web. Inoltre con Project Spark potrete anche giocare i giochi degli altri, senza quindi la necessità di dover crearne uno vostro. Potrete semplicemente divertirvi a provare i migliori livelli e giochi della community. E credetemi, sono tantissimi i lavori che meritano, alcuni rasentano la perfezione e credo che con il passare del tempo ne avremo sempre di migliori. In conclusione, se questo piccolo e breve approfondimento su Project Spark vi è piaciuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi anche sapere se il mio gioco vi è piaciuto. Vorrei potervi portare ogni tanto qui su Jimbo una compilation dei migliori giochi creati con questo straordinario editor e magari poter mostrare anche i vostri giochi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi al canale di Jimbo. Io sono Wolf e ciao ragazzi Alla prossima! Alla prossima! Ilonvia I snit Sparte 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 Grazie.